Franco Camerani Giordano che staggeva con l'iride in teborg di Farigel a Cascione in teborg di Farigel in cui staggeva praticamente prima tutti i baruceri e poi tutti i brazzetti No, non abbiamo capito una roba, in che provincia, in che posto? Cascione, Dravena, Cascione Dravena Scusa Camerani, ma c'è un cacione che è qui sotto la sacchiera la gente pensa, ma tu hai imparato il dialetto che c'è Poi c'è un cacione Dravena, cacione Siria non so che siamo precisi questa roba Cacione Dravena, Borg di Farigel Allora questa è la sacchiera Questa è la posta La seconda che domanda è questa Cum la è stata che un tedesco è più grande studioso della lingua romagnola? E se che fa così vuoi? Se un tedesco è il più grande studioso della lingua romagnola lei non sa che i romagnoli hanno studiato poco la sua lingua Se no, sarebbe stata diversa Tuttavia, tutto va, come ho detto Allora, bisogna dire che i tedeschi Uno è che si è innamorato del romagnolo Per i romagnoli Da i romagnoli, sì Da i romagnoli, ecco, i romagnoli Forse sì Però lui, già mi ha fatto studiare il dialetto E tra i dialetti divisi, non è che il romagnolo Perché lui aveva di obiettivo Solo la lingua complica E questo che si è messo a studiare il romagnolo Si è un'idea che l'era una lingua neolatana Aveva delle caratteristiche diverse da tutti i dialetti E non adesso che fa così? E non adesso che fa così A cercare, ad valorizzare Quei che scrivono in romagnolo Quei che hanno scritto in romagnolo in Tantichità E a fare il deliver E chi è interessato ai poveri Non a comprare Perché a fare il deliver A fare delle attività in tal scuola Scusi camerani, ma il deliver è qua Il deliver, le elever Ecco, ecco Allora, avremmo a dire Se la traduzione simultanea L'avete fatto Bisogna che diciamo I deliver, a questo accalziamo Sono libri Per camerani, sono libri I deliver da nulla non è questa roba A me credo che questo sia bello di romagnolo Perché ogni zona Ha la sua lingua Ha il suo dialetto E questo perché? Perché la lingua Che le dialetto Che aveva imparato È il rispondo proprio È presente Le caratteristiche Più caratteristiche Più specifici Che può Che le E se ognuno è bene nostro E se ognuno Ha saputo di fare da chi è Come che in effetti a sé E se ne è preciso a chi è A ringraziamo Camerani La Federico Grazie Camerani Grazie Grazie Grazie